Che vuoi? Gomorra 4, Ciro Di Marzio è morto o no? Ecco come ritorna. Gomorra 4 anticipazioni, ci sarà il ritorno shock di Ciro Di Marzio oppure no?. Grande attesa per la quarta stagione della fiction, video, cancelletto Gomorra, uno dei prodotti di punta della programmazione Sky che anno dopo anno continua ad ottenere ascolti molto soddisfacenti che vanno ben oltre le aspettative. Anche la terza stagione della serie tv nata dal romanzo omonimo di Roberto Saviano ha registrato ottimi ascolti in Prime Time ed è stata caratterizzata da un finale di stagione al Cardiopalma che ha avuto come protagonista Ciro Di Marzio. La verità su Ciro Di Marzio di Gomorra 4, è morto oppure no?. Come ben saprete, infatti, al termine della terza stagione di Gomorra abbiamo visto che Ciro è stato ucciso da Jenny, in quella che sembrava essere una vera e propria resa dei conti tra le due fazioni camorristiche che si sono sfidate in tutti questi anni. Tuttavia sulla morte di Ciro Di Marzio sono stati avanzati un bel po' di dubbi e che chi ha avuto il sospetto, fin dal primo momento, che in realtà Ciro non fosse morto per davvero e quindi che ci sarebbe ancora una speranza nel vederlo ritornare sul set della quarta stagione. Ma qual è la verità dei fatti? Ci sarà il ritorno di Ciro Di Marzio in cancelletto Gomorra 4 oppure no? Le anticipazioni di queste ore che arrivano dalla serie tv in onda sui canali Sky rivelano che proprio qualche giorno fa sono cominciate le riprese ufficiali delle nuove puntate della quarta serie a Napoli e sul set è stato avvistato proprio Marco Damore, l'attore che veste i panni di Ciro nella serie tv. Ci sarà il ritorno di Ciro in Gomorra 4? La verità dal set. Cosa ci faceva Marco Damore sul set di Gomorra 4? Inutile dire che gli spettatori fan della serie tv Sky, video, hanno subito ipotizzato che in questa quarta stagione potesse esserci il ritorno di Ciro Di Marzio, confermando di fatto l'ipotesi secondo la quale il personaggio non sarebbe morto al termine della terza serie. Ma è davvero così? Come stanno le cose su Ciro? Ritornerà oppure no nel corso della quarta stagione in onda la prossima stagione sui canali Sky? Le anticipazioni di queste ore che arrivano direttamente dal set di Gomorra 4 rivelano che purtroppo per i fan non ci sono delle buone notizie all'orizzonte. Tutti coloro che speravano in un ritorno sul set di Ciro L'Immortale rimarranno delusi nello scoprire che in realtà non è previsto un ritorno del personaggio interpretato da Marco Damore, visto che l'attore è tornato sul set solo per girare due episodi della fiction nelle vesti di regista. Questa volta, quindi, Marco si cimenterà dietro la macchina da presa e non davanti le telecamere.